Una mostra immersiva multisensoriale di light art con un percorso di installazioni e opere d'arte luminose immerso nella natura. Saranno i giardini della Villa Reale di Monza, assieme all'Orto Botanico di Roma, uno dei due siti scelti per trame di luce, l'evento che per 45 giorni accompagnerà il Natale di monzesi e turisti con luci, tunnel luminosi e le musiche di Alberto Boff, in uno dei punti di maggior importanza sul piano storico naturalistico del territorio. Trame di luce si inserisce in parchi reali che vengono scelti dagli organizzatori IMG e Beat Events, secondo determinati canoni, le piante secolari, la natura storica. Tutti questi elementi, insieme e studiati con le persone del luogo, gli agronomi e i responsabili dei vari siti, vengono analizzati e studiati per cucire su misura del singolo sito l'evento trame di luce. È una meraviglia, è una passeggiata che si fa in famiglia, in coppia, fra ragazzi. Ma per uno degli appuntamenti più attesi del Natale monzese non sono mancate le polemiche per il potenziale impatto ambientale dell'evento nei giardini della Villa Reale. Una forte critica che arriva dal Comitato per il Parco di Monza e dal Comitato la Villa Reale Anche Mia, che in una conferenza stampa tenuta di fronte alla Villa Reale hanno chiesto l'annullamento della manifestazione. Il festival, a pagamento, scrivono i comitati, precluderà la fruizione gratuita dei giardini dopo le 16.30 ed è stato organizzato senza una previa consultazione delle forze di rappresentanza, sia politiche che civili. Già in fase di allestimento si sono verificati episodi che evidenziano la sofferenza della fauna presente e non si può dubitare che le fonti luminose notturne, gli accompagnamenti sonori e la prevedibile vasta affluenza di pubblico pregiudicheranno il delicato equilibrio faunistico con grave disturbo del riposo degli animali. L'iniziativa può anche far configurare una violazione della legge regionale sull'inquinamento luminoso e degli articoli 1 e 3 del regolamento del parco e dei giardini, che vietano di disturbare in qualsiasi modo la quiete e la tranquillità garantite dalle particolari condizioni ambientali. Infine, concludono i comitati, risulta pregiudicata la piena fruizione pubblica, a vantaggio di un operatore privato, per una manifestazione di dubbia conformità con l'alto valore artistico e storico del complesso monumentale. Non sono mancate le critiche anche da parte delle forze politiche, tra queste il Movimento 5 Stelle e il consigliere di Civicamente Paolo Piffer.